Ma c'è un tritone in acqua! Ma c'è un tritone! Ma vieni adesso dagli abissi! Ma sei nudo? Vai giù che ti sto facendo il video! Ma come no? Lo sai che sto facendo il video e ti sei fatto... Pensavo stessi facendo una foto. E ti facevi la foto nuda? Una foto, sì. Bimbe, il papà è impazzito! La natura lo fa impazzire! Che figo! Sì! Mi piace troppo! Anch'io adesso mi spoglio! No, non posso! Attenta! 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 Ok! 8! 8! Ecco la natura! Si mu parece cioè lo pubblico! Guardala! Eccola!